Ciao a tutti, per questa puntata siamo al parco con Brody e quindi si parla di cani. Andiamo! Ti piacciono i cani? Sì, sì, molto. Sì, degli altri sì. Sì, sono impegnativi, belli, ma anch'io, come il mio caro amico, quelli degli altri molto, diciamo, sì. Beh sì. Sì, a me sì, assolutamente sì. I cani non mi piacciono, nel senso che sono un bel impegno e con il nostro stile di vita occuparcene sarebbe difficile. Quindi non ne ho mai avuti, non mi piacciono, ho grande rispetto e a volte mi piace vedere altre persone nel rapporto con il loro cane. Perché hai deciso di prendere un cane? Perché volevo una compagnia e perché è l'unica compagnia che ti fa sentire come a casa, quando non ci sai. Io ho sempre avuti cani, sempre piccoli, d'Italia piccola, però ho sempre avuti. Sì, dopo il primo lockdown, dove sono rimasta in casa sola, ho detto che no, mancava un pezzo. Ho dovuto rinunciarci per mancanza di tempo, ma otto anni fa i miei ritmi di vita sono cambiati e quindi la scelta del cane è stata automatica. Avete mai avuto cani in passato? No. Io ce l'hanno i miei, però è stato un mio regalo, perché erano rimasti da soli, nel senso che io e mia sorella ormai viviamo fuori e credevo potesse essere un ottimo compagno per loro in casa. E così è stato, nel bene e nel male. Scusi signore, ci può raccontare qualcosa sul suo cane? Sì, certo, si chiama Brody, è un golden di 4 mesi e 10 chili, quindi se riusciamo ad essere veloci. Che ha deciso di prendere un cane? Perché l'abbiamo sempre voluto e ne abbiamo approfittato adesso che siamo spessissimo a casa. Sa che il suo cane si è addormentato. Sì, eh? Sì. Oh, questo video dove lo posso trovare? Cosa è? È sul nostro canale a YouTube che si chiama Easy Italian. Ah, interessante. Poi se le interessa abbiamo anche un Patreon in cui può trovare esercizi per aiutarla a migliorare il suo italiano. Fantastico. Che per carità lo parla già benissimo. Va bene, va bene, va bene, c'è sempre tempo per migliorare. Quindi praticamente ci sono esercizi, audio lento e lezioni di grammatica per ogni puntata. Se vuole saperne di più, può cliccare il link in descrizione. Vado, eh? Vado a cliccarlo. Vado. Arrivederci. E da quanto tempo lo hai? Quasi tre anni. Lui ha compiuto da poco tre anni e quindi poco meno. Come è cambiata la tua vita da quando l'hai preso? Eh, tanti aspetti positivi, ma ovviamente anche un impegno e una responsabilità. Dodici anni. L'ho presa in canile, tre anni fa, sì. È la luce dei miei occhi. E da quando l'hai preso, come è cambiata la tua vita? Allora, in realtà è molto più impegnata la mia vita da quando ho preso il cane, però ne vale la pena. Nel senso che sicuramente la mia giornata è dedicata molto di più al cane che a me, magari perché faccio i miei doveri e dopo il tempo libero è per il cane, però ne vale la pena sicuramente. Allora, la vita della famiglia, abbiamo cercato in realtà di non cambiarla, abbiamo cercato di fare in modo che lui si abituasse a noi e non il contrario. Beh, indubbiamente devo dire che cambia la vita, perché effettivamente poi devi acudirlo, devi ovviamente portartelo dietro. Noi siamo spesso in viaggio e quindi fa parte della famiglia e deve venire con noi. Certo, dei sacrifici li devi fare, devi pensare in modo diverso. Comunque, adesso non si può pensare di fare dei viaggi, noi abbiamo sempre viaggiato tanto, la misura è anche per quello. La misura piccola è anche per quello, perché vorremmo portarlo in giro con noi, però se può venire andiamo, se non può venire restiamo a casa. Noi lo abbiamo preso 12 anni fa un po' per i figli e poi i figli sono diventati grandi. Come si chiama? Gin si chiama, perché noi beviamo tanti gin lemon, quindi lui è la parte più importante del nostro cocktail preferito. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Allora, i vantaggi sono che quando torni a casa c'è sempre qualcuno che ti aspetta e che ti vuole bene. Gli svantaggi sono appunto che lo devi sempre portare a spasso perché ha bisogno delle sue cose, dei suoi tempi, però alla fine è anche una motivazione che ti dà per uscire e per stare bene con te stesso. Chiaramente il vantaggio, come ha detto Michele, è la compagnia, il fatto che ti stravolta la vita, non dico parificabile comunque a una persona, però te la cambia e ti fa sviluppare un affetto verso un qualcosa di vero a tutti gli effetti, non dico come fosse un fratello. E i vantaggi sicuramente quello di uscire di più e conoscere qualcuno andando in giro, portandolo fuori. Guarda, mio padre è sempre stato il sogno della sua vita e mia madre non glielo aveva mai concesso. Noi l'abbiamo portato in casa a sorpresa il cucciolo. Mia madre era sotto shock e mio padre pianse, che insomma onestamente non l'avevo mai visto piangere, però per lui è stato bellissimo, infatti lui è follemente innamorato del cane. All'inizio mia madre lamentava il fatto che chiamasse amore il cane e non lei. Poi come vantaggio ti fanno compagnia, ti fanno divertire, ti fanno diventare scemo. L'amore incondizionato, tanta compagnia, gli svantaggi ovviamente devi organizzare le sue giornate in base alle sue esigenze. Vantaggi che hai un cane, fantastico, ti fa sempre compagnia e alcuni svantaggi per noi sono vantaggi, perché ci costringe a uscire quando siamo sempre a casa. Allora i vantaggi sono che ovviamente ti fa tanta compagnia, il cane è sempre felice, lui quando arrivi a casa ti fa sempre la festa, anche se sei stato fuori dieci minuti, quando torni comunque ti fa la festa, quindi è sempre un modo diciamo molto carino di tornare a casa, poi è molto affettuoso soprattutto questo tipo di cane. La compagnia soprattutto appunto per i bambini, gli svantaggi è che devi programmare la tua vita anche in base a loro, quindi soprattutto per gli spostamenti e che sarebbe la gestione straordinaria, per la gestione ordinaria portarlo fuori ogni giorno che sinceramente non invidio le persone che sotto la pioggia, il vento, la grandine, di mattina e di sera portano a spasso il cagnolino. Gli svantaggi? Beh sicuramente l'impegno giornaliero, ecco sì, sì sì sì, questo, quindi il tempo da dedicargli insomma. È uno solo lo svantaggio, è il grande impegno che il cane comporta, soprattutto quando si vive in città e quindi non ci sono in appartamento, certo, e quindi non ci sono possibilità di lasciarlo libero. Perché bisogna capire che il cane non è un gioco, non deve essere un passatempo, ma diventa un impegno. Non si può pensare di avere un... ora io in questo momento ho un gatto, però a prescindere che sia... Qualunque animale domestico è un impegno, ti cambiano le giornate, però sono sicuramente più i pro che i contro. Prenderesti mai un cane in futuro? Prenderò un cane in futuro, non penso, però ho una bambina di due anni, se mia figlia me lo chiedesse in maniera insistente potrei cedere. Eh, questo non lo so, speriamo non lo faccia. Poi non facciamo vedere questo video a tua figlia. Non lo facciamo vedere, brava. Io, no, io passo. Io ho già dato e devo dire che passo, assolutamente. Mie figlie ci provano tutti i giorni, ma tengo duro e passo, assolutamente. Non penso, però mai dire mai. Consigliamo a tutti la visione di Io e Marley, film bellissimo che racconta in maniera stupenda come si vive con un cane, nel bene e nel male. Abbiamo conosciuto molte persone, alcuni hanno un cane e alcuni no, e abbiamo capito che può essere bellissimo avere un cane, ti fanno compagnia, ti fanno conoscere anche altre persone, però sono un grosso impegno, soprattutto quando si tratta di viaggi e di portarli fuori tutti i giorni. E a voi? Piacciano i cani o non piacciono? E perché? Scriveteci un commento. Ciao! Ciao!